Sicuramente giocare con 25 di ping non è male, infatti la maggior parte utilizzano questo ping. Certo che avere 0 di ping in creativa e anche in partita normale è una cosa assurda se la mischiate a un sacco di bravura. In questo tutorial di oggi andremo a vedere come fare. Partiamo subito ragazzi! Finalmente ragazzi, eccoci qui con un nuovissimo tutorial. Prima di partire con il video vi ringrazio sempre a bombazza per il supporto che state lasciando e vi chiedo di lasciare un bel like e l'iscrizione. Detto questo passiamo subito al pacchetto del giorno. Il pacchetto è questo in questione chiamato All Ping Tweaks by Leonardo TV. L'ho creato io quindi mi raccomando se volete farlo vedere in qualche vostro video lasciate i crediti giù in descrizione. Una volta aperto il pacchetto si presenterà così e andiamo a vedere ogni features nello specifico. Partiamo subito con lo step 0. Dopo che avete fatto doppio clic vi aprirà nel vostro browser predefinito questa pagina qui. Cliccate il pulsante Go e aspettate che finisca lo speed test della vostra connessione. Una volta finito mi raccomando salvatevi sia il valore in download che in upload. Dopo andrete a fare un confronto per vedere se è migliorata. Passando invece a un consiglio pratico vi ho lasciato qui il link di un cavo LAN che utilizzo. Attualmente è uno dei migliori in commercio. Si suddividono in cat 8 e poi ci sono quelli sotto. Cat 8 è il più veloce. Anche se non avete la 1000 mega vi consiglio comunque questo qui. Il prezzo è di 24 euro per 15 metri. E mi raccomando non giocate mai senza cavo LAN perché chiaramente se avete il cavo la connessione di rete è diretta con il vostro computer o console che sia. Quindi mi raccomando utilizzate il cavo per far dare al vostro wifi il massimo della sua potenza. Adesso arriviamo a un'impostazione di Windows importantissima. Aprite questo collegamento qui e poi vi spunterà la vostra connessione. Cliccate su modifica opzioni scheda. Una volta arrivati qui fate tasto destro sulla vostra connessione. Vi recate su proprietà e copiate tutte le mie impostazioni. Essenzialmente togliete tutto e lasciate la spunta solo su questi due qua. Protocollo internet versione 4 e protocollo internet versione 6. Cliccate su ok. Dopo aver messo queste impostazioni cliccate il pulsante configura. Vi aprirà un'altra pagina. In questa pagina qui andate su avanzate e mi raccomando disabilitate questa opzione qui del valore. La lasciate su disabilitate. Controllo flusso mettete questo qui. E andate poi su ethernet a risparmio energetico. Mi raccomando questa impostazione qui è importante che non sia abilitata. Su max support speed mi raccomando mettete il massimo che vi offre la vostra connessione. Su green ethernet disabilitatelo. Un'altra cosa importantissima su power saving mode mettete valore disabilitato. Priorità e VLAN lasciate abilitato. Ricevi buffer mettete 512. Questo potrebbe cambiare in base alla vostra connessione ma su internet troverete i valori. E poi su velocità e duplex mettete auto, negotation. Una volta messe queste impostazioni andate su risparmio energia e disattivate tutte le spunte. In questo modo la connessione non andrà mai in risparmio energetico e darà sempre il massimo. Cliccate su ok e potete anche chiudere. Tornando nella cartella cliccate due volte su device manager. Vi recate su schede di rete in questa opzione qui. Quindi cercate la vostra scheda di rete, nel mio caso è questa Realtek. Fate tasto destro proprietà e vi recate su risparmio energia. Anche qui importante togliete tutte le spunte così non avete risparmio energetico abilitato. Recatevi su driver, copiate il nome della vostra scheda di rete, nel mio caso è la Realtek PC 2.5 GB. E copiatelo su Google Chrome. Una volta cercato aprite il sito del produttore della scheda di rete e semplicemente scaricate il driver più recente. Dopo che avete scaricato il driver per la vostra scheda di rete, cliccate sulla scheda, fate aggiorna driver e qui vi chiederà dove selezionare il driver. Voi semplicemente cliccate su cerca i driver nel computer e mettete il file da voi scaricato. In questo modo fixerete un sacco di problemi in quanto con gli aggiornamenti si risolveranno. Una cosa importantissima ragazzi è disattivare questo network throttling. Semplicemente fate doppio clic, gli date l'ok, qui vi chiederà questa cosa qui perché andrà a modificare una cosa all'interno del registro di sistema. Voi semplicemente cliccate sì e le chiavi e i valori saranno stati modificati. Il network throttling essenzialmente va a limitare la potenza della vostra connessione quindi è importante che sia disabilitato. Qui ragazzi ho deciso di mettervi il link di un sito che chiama GearAppBooster. È un abbonamento mensile, ve lo consiglio perché effettivamente diminuisce di tanto il ping. Chiaramente sono quei soldi in più che spendete al mese. Diciamo che se abitate in un paesino dove non arriva la 1000 mega potreste anche provare ad acquistare questo abbonamento. Se volete provarlo ragazzi basterà cliccare su scarica per windows e ci sono 7 giorni di prova gratuita. Ultimo step cliccate su windows più r copiate questa scritta qui ctrl più c dopo averlo copiato cliccate windows più r sulla vostra tastiera e con ctrl più v andiamo ad incollare la scritta copiata in precedenza. Premiamo su ok e ci aprirà l'editor criteri di gruppi locali. Una volta arrivati qui dentro ci allarghiamo un pochino per vedere bene e clicchiamo su modelli amministrativi, rete e qui andiamo a cercare l'opzione dei pacchetti. Andiamo ad aprire utilità di pianificazione pacchetti quest. Una volta aperto praticamente qui ci sarà scritto limite a larghezza di banda riservabile. Voi ci cliccate due volte mettete attivata e anziché 80 come limite gli mettete 0. In questo modo la vostra connessione potrà dare il massimo. Cliccate su applica e ok. Passaggio fondamentale che mi stavo dimenticando ragazzi cliccate su modifica opzioni scheda, vi mettete sulla vostra connessione, tasto destro proprietà, vi recate su protocollo internet versione 4, ricliccate su proprietà e mettete utilizzi i seguenti indirizzi server dns. Questo dns qua ragazzi è del server migliore al mondo di google, ve lo straconsiglio, vi diminuirà il ping e la latenza quindi fate subito che metterlo e adesso passiamo in gioco a vedere i risultati di tutto questo boost. Eccoci qui in gioco ragazzi, come potete vedere il ping è fisso su 0 quindi la fluidità si sente. Proviamo a fare un po' di edit considerando sempre che io sono da pad quindi la velocità rimane quella e come vedete è proprio bello fluido. 0 di ping fisso e poi in più vi lascerò in alto a sinistra tutte le varie foto di quanto è migliorato il ping dopo il boost. Ne approfitto per consigliarvi questa mappa qui dove allenarvi negli edit con veramente pochissimo lag in quanto è stata fatta con la creativa a punto 0. All'interno potete trovare già dei pulsanti che premendoli andranno a fare queste cose qui. Cliccando qui vi troverà una persona con cui fightare, ci gioca veramente tantissima gente. Possiamo anche andare a cambiare lo scenario con vari colori. Teniamo un attimo questo che non si vede una mazza. Qui abbiamo anche della musica per i creator quindi finalmente possiamo utilizzare delle canzoni in live. Clicchiamo ad esempio 6 e vedete abbiamo un beat bello chill con cui allenarci. In più ragazzi se volete migliorare un sacco negli edit utilizzate questa mappa perché è presente lo slow mode. Una volta cliccato su slow, super slow non ve lo consiglio perché è veramente troppo lento, potete allenarvi in tutti quegli edit che normalmente non riuscite a fare. Ad esempio un triplo edit come può essere un high ground retake fatto in questo modo. Adesso va anche tanto questa copertura qui, potete farla da entrambi i lati come vedete, cercare di prendere l'high ground. Dopo che avete masterato lo slow mode vi allenate con la modalità normale. Dopo aver imparato l'edit potete fare una cosa un po' da fenomeno ovvero cliccare su fast e allenarvi a fare gli edit con la velocità boostata. Non è facilissimo ovviamente dovete mettervi un pochino qui ad allenarvi. I tripli edit io non li so ancora fare, proviamo. No, ok come vedete è difficile. In più ragazzi guardate che bello lo zero di ping fisso che ci va a dare un vantaggio enorme anche in un momento in cui vado a prendere il muro ad un nemico. Io ragazzi direi che ci possiamo salutare qui, il video può finire, spero che vi sia stato d'aiuto. Per qualsiasi domanda non esitate a lasciare un commento. Se avete bisogno di una mano più tecnica venite su Discord, aprite un ticket e saremo lieti di aiutarvi. Grazie per la visione ragazzi, mi raccomando lasciate un bel like. Alla prossima!